In Italia i crimini informatici sembrano rallentare. Nel periodo estivo il numero degli attacchi informatici è diminuito rispetto al periodo invernale e si allarga inoltre la forbice tra i tentativi e gli incidenti andati a buon fine. È quanto emerso dal report prodotto dall'osservatorio Cyber Security di Ex Privia presentato nella giornata conclusiva della Pullian Cyber Security Forum. Se i crimini sono diminuiti nell'ultimo periodo tuttavia la situazione non è del tutto positiva. La brutta notizia però è che se confrontiamo questo trimestre con il trimestre dello scorso anno troviamo che il numero di attacchi e il numero di incidenti era nettamente inferiore lo scorso anno e lo scorso anno dopo il terzo trimestre c'è stato un quarto trimestre veramente brutto per cui se quest'anno dovessimo ripercorrere lo stesso trend avremmo un quarto trimestre veramente brutto. L'Italia si connota da differenti livelli di sicurezza informatica tra le varie aree regionali. L'Italia è sempre divisa anche abbastanza in due. Se noi andiamo a guardare i servizi digitali, i servizi digitali al sud sembrano più protetti che quelli al nord e questo noi abbiamo sviluppato un indice che confronta servizi con vulnerabilità. Ecco noi al sud troviamo una robustezza maggiore dei servizi che al nord. Se poi ci spostiamo invece sui dispositivi IoT, noi troviamo che dispositivi IoT che sono telecamere di videosorveglianza, anche dispositivi medicali, stampanti, ecco queste le troviamo più non protette al sud che al nord. Che tipo di pratiche si possono mettere in campo per rispondere appunto? Ci sono diverse soluzioni tecnologiche che servono per ridurre il perimetro di un attacco. Però se devo pensare a quello che succede nella realtà, nella realtà noi scopriamo che la stragrande maggioranza degli attacchi hanno successo tramite phishing, truffe telefoniche, truffe fatte tramite un'email e per essere protetti da questo tipo di attacchi. È sufficiente prestare attenzione, diffidare da qualunque tipo di anomalia.